Pomeriggio di dolore, commozione e silenzio nella chiesa di San Pio X per l'ultimo saluto a Rita Talamelli, 66enne fanese, uccisa per strangolamento dal marito Angelo Sfuggiti, lunedì pomeriggio all'interno delle mura domestiche nel quartiere di Poderino. La comunità fanese, a cominciare dal sindaco Seri, si è stretta attorno al dramma di famiglie lacerate dal dolore. La tragedia di una donna con problemi mentali uccisa fra le mura familiari. Gli interrogativi di un marito, un padre, un fratello, arrestato per uccorricidio e che più volte ha continuato a tentare di togliersi la vita, esasperato da vent'anni di convivenza con la malattia mentale di una moglie resa irriconoscibile. Dopo la cerimonia funebre, il ferretro di Rita è stato trasferito al cimitero centrale. Angelo Sfuggiti è invece tuttora ricoverato nel reparto di psichiatria di Muraglia dopo il tentativo di suicidio susseguente all'uccisione della moglie. Non appena verrà dimesso sarà trasferito in carcere per rispondere dell'accusa di omicidio volontario. Un miglioramento di condizioni di salute che sarà la precondizione per effettuare anche il primo interrogatorio utile a chiarire lo scenario che ha portato al delitto.